Cari amici, buongiorno dal vostro Sandro Gaglio, come vedete la scenografia non cambia, la Sicilia alle spalle e parliamo di quest'isola, sicuramente ne parleremo in maniera particolare perché oggi abbiamo il piacere di avere con noi in studio Carmelo Barbagallo, Carmelo Barbagallo Vigile del Fuoco, responsabile regionale del sindacato USB e tra le altre cose è un sindacato che parla in maniera forte e chiara dei problemi dei Vigili del Fuoco, Carmelo una buona giornata Buongiorno Sandro e grazie per la tua ospitalità No grazie a te per essere qui con noi anche perché abbiamo dato un segnale preciso, questo è un programma, una trasmissione, un modo di essere che parla di tutto e di più e noi non le mandiamo a dire ma le diremo e le diciamo in diretta e allora Carmelo partiamo dal nodo che ripetiamo sempre, il nodo più forte, uomini e mezzi vogliamo capire innanzitutto in ambito regionale poi scendiamo a cascata sulla provincia di Catania perché sembra che il problema ancora persista, Carmelo Diciamo che da quando ci conosciamo circa dieci anni abbiamo fatto tantissime battaglie, più volte ci siamo incontrati in prefettura, addirittura abbiamo fatto anche azioni eclatanti ho fatto azioni eclatanti perché mi sono incatenato io, per cercare di portare a conoscenza le problematiche del nostro comparto quello dei vigili del fuoco che sicuramente è un comparto che ha necessità di essere ribinguato e ha una necessità di maggiore attenzione da parte sia della politica, delle nostre istituzioni locali, regionali e nazionali soprattutto che ogni qualvolta ci sono le elezioni o ho bisogno di andare al vuoto si mettono a disposizione ma all'indomani tutti scompaiono. Il nostro compito qual è di organizzazione sindacale? È quello sicuramente di portare benefici oltre che al comparto vigili del fuoco anche alla popolazione stessa. Tu mi dirai perché alla popolazione? Che cosa c'entra la tua battaglia per un beneficio alla popolazione? In prevenzione lì? Esatto, quello che cerco di fare io, quello che cerco di fare conoscere alla popolazione ma soprattutto ai politici, a chi dovrebbe intervenire per mettere in sicurezza il territorio è quello che sia la carenza di organi dei vigili del fuoco, sia la mancanza di prevenzione e messa in sicurezza del nostro territorio, sicuramente in periodi particolari, quale sia l'estate, quale sia l'inverno, se non c'è un impegno maggiore e un investimento a 360 gradi a rischiare siamo tutti, soprattutto noi vigili del fuoco che purtroppo negli anni abbiamo avuto grosse perdite. Questo mi costa personalmente anche perché più di una volta mi sono ritrovato assieme a Carmelo in zone operative, noi siamo stati lì, chi pensava di fotografare il fuoco, chi poi ha fatto le corse scappandosene via, sempre io, perché il fuoco cambiava direzione e si corre da un lato all'altro. Ma qual è il messaggio forte? Il messaggio forte è che noi abbiamo veramente qualcosa di particolare, una venerazione nei confronti del corpo dei vigili del fuoco, ce ne accorgiamo in diverse occasioni, durante la manifestazione, quando ci sono e ci siete presenti voi i vigili del fuoco, onestamente è come se avessimo attorno degli angeli che ci guardano, che ci tutelano. E allora se questo è il messaggio che esce fuori dalla divisa del vigile del fuoco, non si capisce perché dal Ministero degli Interni, a scendere, perché voi siete una codificazione del Ministero degli Interni, non si riesce a dare quello che voi chiedete sempre. Iniziamo dagli uomini e iniziamo da mezzi che siano sufficienti. Siamo in zona operativa, siamo sull'Etna, i due passaggi importanti sono l'Etna che brontola quasi spesso, il brontolare significa creare movimenti tellurici e ci fermiamo quando sono piccoli i movimenti, quindi intervenite subito quando arriva un messaggio che dice che c'è stato un terremoto di magnitudo 3, 3, mezzo, 4, già siamo in zona pericolosa, comunque già in zona 3 a volte c'è qualche parte di muro che cade a terra. Com'è che intervenite in questo caso? Quando ci sono eventi particolari, come sia un evento tellurico, un evento sismico, sicuramente è un evento che non capita tutti i giorni, ma essendo un territorio ad alto rischio, come ben sappiamo, già è accaduto più volte, io ho partecipato anche al sisma dell'Aquila, dove lì veramente c'è stata una catastrofe in mane, dopo si è ripetuta anche ad Amatrice, dove ha fatto ancora peggio. Grazie. 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 Sd4 ora, già ho contattato il sindaco di Caltagilone e altri sindaci contatterò per cercare di pressare il Ministero degli Indeni e il nostro Dipartimento per far sì che abbiano questi distaccamenti perché se veramente se accadono eventi qualsiasi, dagli incendi, dalle alluvioni al sisma, noi dobbiamo essere subito preparati e pronti con mezzi, attrezzature uomini per poter intervenire, perché anche un secondo può salvare una vita. La vita di una persona è legata e appesa ad un filo quando sta sotto le macerie e aspetta che qualcuno gli faccia respirare e far vedere la luce. Mi sono chiesto, mentre parlavi, la domanda è come mai i vigili del fuoco non hanno i cani molecolari. Ma era una battuta che mi è venuta nel cervello. Lascio così andare via questo mio pensiero. Quindi si interviene in un certo modo quando c'è il terremoto e quindi chiamiamo aiuto e l'aiuto lo chiamiamo facendo il 115, chiamando i vigili del fuoco. Il 112 è un numero unico che quando si chiama c'è chi smista dalle ambulanze a voi, alla polizia, ai carabinieri, eccetera. Torniamo invece e ci portiamo nel periodo estivo, quando i problemi si moltiplicano perché il caldo, vedi, 2023 l'anno più caldo dal 1850. Quindi noi abbiamo vissuto temperature tropicali. Come avete vissuto voi questo momento che poi è durato una stagione? Io mi auguro che il mio problema di saluto che sto avendo oggi non sia causato proprio da quello che è passato quest'estate. Perché io oltre a fare sindacalista, oltre ad essere in primaria e a rompere le scatole a tutti, compreso te, faccio il vigile del fuoco operativo, no? Certamente, certamente sì. E non siamo immuni alle malattie. Questa è un'altra battaglia che stiamo affrontando da anni, che è quello del riconoscimento delle malattie professionali e degli studi sui vigili del fuoco stessi che affrontano a diverse calamità, dagli incendi che non sono più normali ma sono diventati anormali. Perché quello che abbiamo passato... La quasi totale sono dolosi, no? Esatto. E anche le temperature e la tipologia degli incendi, anche se sono dolosi, che al 100% sono dolosi, sono diventati veramente abnormi. Perché quest'estate ho visto cose che noi umani non eravamo abituati a vedere. lavorare 24 ore di fila, anzi io ho lavorato 30 ore di fila perché ovviamente quando ci sono questi eventi... C'è stato l'evento di Nicolosi e... Sì, sì, abbiamo cominciato il pomeriggio del 23 e abbiamo finito, io ho finito il 24 sera, ma abbiamo continuato ad oltranza, c'erano colleghi... Sì, in effetti c'è stato un momento di panico. Estremo, ma questa emergenza quest'anno non è stata una volta sola, poi una settimana dopo ce n'è stata un'altra, una settimana prima già avevamo cominciato a lavorare a dismisura e ancora non si capisce che se non si interviene in tempi celeri, sia con la prevenzione, anche con l'utilizzo di uomini e mezzi, non con i droni che non ho mai visto in giro... Ah, ecco, come i cani molecolari, ci sono i droni molecolari. Ti ricordi quelle denunce che facevamo sui droni? Che vedono tutto e che non ci sono. Oggi si parla di prevenzione, il ministro parla di prevenzione, ma ancora io non ho visto serbatoi alla playa, anzi ho visto un idrante messo, hanno messo un idrante veramente, però ancora il problema, diciamo, sussiste. Quindi l'idea di fornire la playa di più serbatoi, da dove subito andarsi a rifornire, perché è chiaro che l'autobot si scarica prima o poi, no? Chiaramente. Il problema non è che si scarica l'autobot, il problema è se c'è la seconda autobot. Certo. Se ci sono autobot a disposizione, perché noi siamo, di ripeto, il 24 luglio, anche se c'erano gli uomini, mancavano i mezzi. Senza dubbio, perché a destra, a sinistra, a nord e a sud... E le persone ci venivano a prelevare dentro, ma non prelevavano nessuno perché non c'era nessuno. Sì, quando c'è più, e tanto è vero che io sono stato uno di quelli che ha fatto i servizi inseguenti a nord e a sud, la vostra operatività. Devo dire che poi, alla fine, l'unica cosa che ti rimane è quell'odore simpatico di fumo e di incendio che porti a casa, ma porti tanto di più. Altro giorno ho fatto un post in merito a questo che stai dicendo, dove dicevo che la puzza dell'incendio, del bruciato, solo il vigile del fuoco la può capire. È brutta. Qualche disgraziate. È brutta perché ovviamente ti porta malattia a lunga male. Senza dubbio. Però per noi chi fa il vigile del fuoco con vocazione, quella puzza del bruciato, ce l'hai dentro, non te la toglie più. È tipo una cosa, non ti dico che è bella, però che la senti tipo con soddisfazione. Sarebbe lo zono e... Alla fine, quando tu spegni l'incendio, la senti tipo con soddisfazione, te la porti dentro con soddisfazione. Che l'hai spento. Perché l'hai spento. Io devo essere sincero, tanto soddisfatto non era di chi stava fidendo. Dico, lo diciamo in inglese così diamo un'idea dell'intervento del giornalista. Se andassimo a fare degli studi su tutto quello che noi abbiamo addosso, durante e dopo gli incendi, ovviamente di Pino li puoi lavorare. Calcolare, diciamo, la capacità. Grazie. 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 Grazie a tutti. parliamo invece dell'uomo Carmelo tutto quello che mi hai raccontato tu torni a casa hai due figlie la moglie che conosco la signora torni a casa sono ormai abituati all'idea che Carmelo esce e poi torna con tutti i problemi che si è portato dietro o vivono anche loro questa quotidianità mia moglie al 50% ogni tanto si mette di traverso non è che si mette di traverso perché è contraria che ovviamente vorrebbe tutelarmi anche la mia salute perché vede che in condizioni mi riduco certe volte perché ci metto troppa enfasi ci vogliamo mettere l'altro 50% che ti vorrebbe come marito io questa la sto buttando così nel senso che chiaramente gli manca abbastanza tempo e l'ho dedicato agli altri magari dopo non è stato riconosciuto questo tempo che ho dedicato a tantissime persone che magari poi mi hanno voltato le spalle ma questa è una cosa che purtroppo mi sento è natura e carattere è natura e carattere esatto e poi la figlia piccola che quando me ne vado ovviamente ci rimane male mi dice no non c'è andare al lavoro no non devi andare questa è una cosa diciamo che mi ferisce di più senza dubbio però lo faccio anche per loro lo faccio anche per loro perché mi piace cercare di cambiare le cose e di migliorare le cose questo è il mio obiettivo l'altro giorno ho detto mi piace sognare e possibilmente i sogni potrebbero diventare realtà tanti sono diventati realtà come I ever dream una volta uno drinks erano tanti i sogni quindi qualcuno se ne è uscito sapete che ha detto drink sempre comunque dream è dream è proprio i sogni comunque al di là di ogni cosa è chiaro che abbiamo cercato di dare un messaggio è quello dell'uomo del vigile del sindacalista di chi poi passa la giornata cercando ecco posso dire una cosa in merito a questo dell'uomo diciamo che tanto mi ha insegnato anche il compianto Beppe Sponbilano una persona meravigliosa che è andata via purtroppo ci ha lasciati in un modo incredibile sì sì assolutamente sì in un modo incredibile questa cosa diciamo che mi ha ferito tanto mi ha ferito tanto sì perché poi alla fine lui a Palermo ha prodotto tantissimo è stato guarda io lo conosco perché ero molto amico del dello zio lo zio è stato assessore al comune di Catania la sorella e quindi la mamma di Beppe Spampinato una donna incredibile perché era un motore che non si fermava mai e alla fine pensa quant'è che lo conosco da da bambino e lo conoscevo da bambino e quindi il fatto che all'improvviso arriva una notizia che dice che non c'è più e ti chiedi ma come dovevamo festeggiare il Capodanno non c'è problema spunta la foto su Facebook lo vediamo cuoricato tranquilli tranquilli era così tranquilli tranquilli tutto in un istante con una catena di problematiche io ho cercato di ricordarlo a modo mio anche con poche parole con una foto poche parole il senso di una persona che lascia ad ognuno di noi qualcosa a te a me agli altri una vita non era il mio amico di riferimento era una persona che quando ci incontravamo il sorriso non mancava mai il modo di raccontarci che fai che dici come stai come te la passi e poi ti tocca ti tocca personalmente io ritengo che a questo punto questo lo vogliamo chiamare primo incontro con Carmelo penso proprio di sì questo primo incontro ha dato l'idea che dentro una divisa ci sta l'uomo e per parlare di Carmelo Barbagallo dovremmo dedicare qualche oretta in più va bene ma non è che riusciamo a completare quello che ha fatto e che continua a fare per questo ti dico grazie nome per conto di quei cittadini di tutti i cittadini che quando chiedono aiuto non so perché pensano sempre al vigile del fuoco quando ci sono catastrofi o o fatti in cui deve intervenire il vigile del fuoco la regia la nostra regia oggi di Alessandro Ruggeri oggi abbiamo posto in essere tutta la nuova attrezzatura quindi Angelo Pulvirendi che è quello che tocca complimenti a voi sì sì no ma devo dire che lui è tipo Remmida io sto aspettando grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti